ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video voglio parlarvi di queste le nuove casse creative pebble 3 bluetooth e usb sia type c che normale e jack quindi diciamo avete la possibilità di collegare queste casse alimentarle in questi modi allora partiamo dal fatto che le casse come vi ho anticipato hanno connettività bluetooth però in questo caso qui devono comunque essere alimentate via usb per poterle utilizzare poi abbiamo la connettività jack qui dovete collegare un cavo che non è incluso nella confezione via jack da qui alla fonte dove volete riprodurre l'audio ma naturalmente anche in questo caso dovete collegare comunque per forza il cavo usb per alimentarle oppure usb come vedete collegato all'ipad tra poco vi farò sentire l'audio e vi mostrerò il funzionamento che non solo le alimenta ma offre la possibilità anche di ascoltare l'audio quindi magari ecco se avete il telefono a disposizione collegate le casse tramite questo cavo e basta quindi non dovete collegare le casse via cavo e più jack o cavo più bluetooth ma se avete uno smartphone type c potete collegare questo cavo vedete che poi è quello delle casse nella confezione è presente anche questo adattatore che permette di collegare le casse via usb quindi potete collegare le casse al pc via usb via type c o jack però vi ricordo che in questi casi non basta cioè diciamo non serve il jack in questi casi collegate ad esempio le casse in questo modo adesso vi mostrerò il funzionamento ovviamente e le utilizzate oppure in questo modo al computer e le utilizzate mentre se le utilizzate via jack dovete anche alimentarle perché hanno una batteria interna che va costantemente alimentata cioè non potete magari collegare diciamo solo il jack e basta ma dovete collegare jack usb se invece state utilizzando le casse sul cellulare o il tablet vi basterà o il computer solo il cavo allora come funzionano le casse una volta che avete collegato ad esempio usiamo l'ipad che c'è genshin impact in esecuzione una volta che avete collegato il cavo all'ipad le casse sono pronte per essere utilizzate vedete ora aumentando il volume delle casse questo è il volume massimo quindi la qualità naturalmente in video non potete diciamo avere un quadro generale della reale qualità e volume però comunque potete farvi un'idea allora le dimensioni delle casse sono di 123 per 120 per 118 il cavo invece è lungo per quanto riguarda questo cavo qui che è quello che poi alimenta le casse è lungo 1,2 metri mentre il cavo che collega una cassa all'altra è lungo 1,35 quindi un po più lungo i driver invece sono grandi 2,25 e sono stati realizzati in questo modo vedete rivolti verso l'alto per migliorare la qualità del suono la potenza massima delle casse è di 16 watt quindi non aspettatevi casse proporzionate esagerate per quanto riguarda alti bassi ma comunque fanno davvero un ottimo lavoro l'avete sentito sia su smartphone che tablet che pc e altri dispositivi quindi voglio ricapitolare le casse funzionano via bluetooth ma oltre alla connettività dovete collegare anche il cavo per alimentarle funzionano via jack stesso discorso cavo jack non incluso nella confezione più l'alimentazione oppure utilizzarle con il cavo type c al tablet o smartphone oppure usb al vostro pc se non avete una porta type c oppure un adattatore quindi potete utilizzare le nuove casse di creative in questo modo qua l'audio è quello che avete ascoltato e ve lo faccio riascoltare come udite diciamo è un audio abbastanza buono non aspettatevi il massimo il top ma è un audio abbastanza buono anche perché il prodotto in questione ha un costo di circa 40 euro e potete trovarlo sul sito web ufficiale non so se ci sono anche su amazon queste casse e se ci sono vi allego il link ovviamente nella descrizione del video ma sul sito web ufficiale le trovate ad un costo di 40 euro diciamo Grazie.